Buongiorno dal Partegno Lombardi, buongiorno a Pazienza, presentiamo Foggia Avellino. Lei nel post-gara di Abrino Juvestabia ha parlato di certezze, il direttore Condo Fabio Tito hanno parlato di rabbia, di voglia di andare avanti, di riscatto, insomma le chiedo che Avellino si aspetta, che partita si aspetta allo Zaccheria domani? Ho parlato di certezze per il semplice fatto che abbiamo fatto una partita secondo me molto buona, molto positiva, molto propositiva e da quella partita siamo venuti fuori con delle certezze, nel senso che abbiamo consapevolezza di essere una squadra che può arrivare fino in fondo a lottare e cercare di riguadagnare quei punti persi anche nel girone di andata. Le certezze a cui mi riferivo erano esattamente queste, la partita di domani sicuramente sarò ripetitivo e probabilmente noioso ma è una partita difficile pur incontrando una squadra che nelle ultime uscite ha avvertito delle difficoltà ma andiamo a giocare in uno stadio importante, in uno stadio in cui la tifoseria si fa sentire, lo avrà fatto anche con la propria squadra, con la propria società, in una situazione particolare, un ambiente particolare e poi se a questo ci aggiungiamo che all'interno della Rosa comunque ci sono, nonostante le difficoltà dei giocatori che possono dire la loro in questa categoria, tirando le somme vediamo le difficoltà che può portare alla partita di domani. Buongiorno mister, tempo fa parlando del mercato parlava di un fastidio ma anche di un'opportunità allora dato che fatalmente queste ultime due settimane questo argomento si intreccia anche con le cose di campo, allora intrecciando il tutto, le condizioni di Benedetti in modo tale che magari capiamo anche se c'è qualcosa che potrebbe muoversi in prospettiva anche in sede di mercato e poi se, sempre intrecciando le due cose, se come caratteristiche dei singoli in mezzo al campo, al centrocampo, lei ritiene che siamo completi come caratteristiche dei singoli sia in quelli che vanno in campo sia eventualmente quelli che subentrerebbero. Grazie. Allora, per quanto riguarda Benedetti ha avuto un problema al ginocchio, ha fatto una visita dove ha avuto delle risposte non proprio positive ma stiamo facendo ulteriori accertamenti, ulteriori verifiche per capire bene quelli che sono i tempi poi di recupero e in base a quelli poi cercheremo di capire e valutare se è il caso di ritornare sul mercato per quel ruolo lì. Però lo sapremo a giorni perché non è che il mercato sarà aperto per sempre e quindi sarà una questione di giorni. Per quanto riguarda invece il centrocampo, per caratteristiche siamo a posto, siamo al completo e non credo che ci saranno interventi ancora in quella zona del campo, a meno che qualcuno non chieda di poter avere più spazio ma ad oggi non ho avuto nessun tipo di segnale da questo punto di vista. Mister buongiorno, allora completo la domanda di Dino riferendomi all'attacco, cioè se dopo il colpo sfumato di Starita, secondo lei la società e anche lei chiaramente intendete puntare su un giocatore che abbia le caratteristiche di seconda punta esterno che eventualmente le permetta di cambiare il ruolo di passare eventualmente a un 3-4-3 in attesa anche di Russo che avrà bisogno ancora un po' di tempo e la seconda domanda sempre a proposito di attacco a questo punto come sta Gori visto che il paderno è squalificato, si apre questo ballottaggio Gori-Marconi? Gori sta meglio, ha avuto la possibilità di lavorare con più continuità questa settimana e sicuramente rispetto a quella scorsa è in condizioni diverse, in condizioni migliori e quindi potrà essere della gara. Per quanto riguarda il mercato, nel reparto offensivo quello del giocatore che è andato al Benevento era sicuramente un'opportunità, così come vi avevo detto parlando del mercato che deve essere un'opportunità, in quella circostanza nella situazione specifica di quel giocatore era un'opportunità che ci dava la possibilità o perlomeno lo dava a me di avere più soluzioni anche per quanto riguarda il sistema di gioco però deve essere un'opportunità, non deve essere una necessità nel senso che se si trova un giocatore che abbia quelle caratteristiche, che ci dia l'opportunità mantenendo il livello alto, di poter poi cambiare anche sistema di gioco e darmi più soluzioni, bene, altrimenti rimarremo così. Mister, tornando alla conferenza post-gara contro la Juve Stabia, riferendosi anche al gol incassato del pareggio, lei disse non ho avuto modo di vedere quello che è successo, poi lo rivedrò. Questo solamente per capire anche come ha gestito poi la settimana, perché è naturale che si siano rintracciate delle responsabilità, lei è un termine che non vuol sentire, l'ha escluso anche in quella circostanza, si chiude molto sempre in difesa dei suoi uomini come giusto sia, però è inevitabile che poi anche nel rivedere quella partita si affronti il tema all'interno dello spogliatoio, questo per chiederle anche come ha gestito magari con i diretti interessati questa settimana ed anche come li ha visti a livello umorale rispetto a quello che è accaduto. Ci ritorno malvolentieri ad analizzare la gara di sabato scorso, non perché per il risultato, lo faccio solo perché magari lei mi ha chiesto come l'ho affrontata la settimana e le rispondo, le rispondo, l'ho affrontata esattamente come tutte le altre, perché anche nelle altre gare ci sono stati degli errori che puntualmente durante la settimana siamo andati ad analizzare e anche questa settimana ci siamo ritrovati ad analizzare degli errori che questa volta hanno inciso sul risultato, non parliamo di un singolo errore ma parliamo di diversi errori concatenati e a cui nessuno ha posto rimedio, quindi non è un singolo errore anche nella circostanza del gol subito su calcio di punizione, però lo abbiamo fatto e lo abbiamo affrontato come tutte le altre settimane, perché anche quando si vince andiamo ad analizzare, a rivedere quello che si può fare meglio, quello che si può correggere, quello che è stato fatto bene e lo abbiamo fatto anche questa settimana. Mister, ne parlavamo anche in altre occasioni, è un campionato molto equilibrato alle spalle della Juve Stabia, tante squadre, c'è tanto equilibrio e tra l'altro ci sono delle trasferte che possono pensare di più anche con una nuova prestazione lontana dal partenio Lombardi senza tifosi, può essere un ulteriore valore aggiunto. Sì, sono d'accordo quando lei parla di un campionato equilibrato perché poi domenica per domenica ne abbiamo conferma, guardando le partite, guardando i risultati e quindi assolutamente più rispetto a tutti gli altri anni, probabilmente quello di quest'anno è un campionato, perlomeno nel nostro girone, assolutamente equilibrato. La trasferta di domani, di nuovo, senza tifosi è un qualcosa che ci pesa, che ci dà fastidio, che ci toglie qualcosa sicuramente perché non avere il supporto dei nostri tifosi anche fuori casa è un qualcosa che alla fine ti toglie sempre, ci dispiace ma dobbiamo essere consapevoli che domani dobbiamo andare a fare una grande partita anche per loro perché poi è una partita sentita, una partita che insomma andrà vissuta. Noi la faremo in campo e loro lo faranno da casa. Mister, buongiorno. Per quanto riguarda il Foggia, è uscito sconfitto dalla trasferta a Giugliano, la partita in realtà è stata condizionata dall'espulsione di Di Noi al diciottesimo. è una società che è molto in divenire per quanto riguarda il mercato, tanti movimenti in entrati, in uscita. Questo può essere un vantaggio? Davvero conviene non basarsi nemmeno su quella partita che forse è nata storta. C'è il pericolo di sottovalutare il Foggia se lo si inquadra da questo punto di vista? Non mi fido, non mi fido di tutti questi movimenti, di questo parlare, di questo chiacchiericcio. ho visto il Foggia nelle ultime due gare dove ha cambiato sistema di gioco, dove ha cambiato comunque la guida tecnica, dove alla guida tecnica c'è una persona, un allenatore che tra l'altro conosco come giocatore, ma è uno di quegli allenatori che viene dalla scuola di De Zerbi, quindi un calcio molto propositivo, un calcio offensivo, un calcio che comunque mette in difficoltà le squadre avversarie e quindi dobbiamo farci trovare pronti, perché poi anche se è vero che il calcio che loro propongono è un calcio diverso, difficile da sviluppare, ma col tempo e con le gare poi vanno a migliorare quei meccanismi, quei sincronismi che poi danno fastidio. Quindi al di là di quello che si dice, al di là di quello che si è visto negli ultimi due risultati e soprattutto nell'ultima dove comunque loro erano in vantaggio, proponendosi in avanti più volte, facendo anche un bel gioco e poi rimasti in dieci per gran parte della gara. Quindi insomma è una squadra che può mettere in difficoltà, dobbiamo farci trovare pronti ad andare lì con un grande spirito di sacrificio, di voglia, di volontà e di sorprendere loro piuttosto che essere sorpresi noi. Volevo chiedere di Russo, lo abbiamo visto particolarmente in palle ed anche stranamente sorridente per i suoi standard nelle prime due uscite a porte aperte. Nelle due uscite a porte aperte abbiamo visto anche Varela fare lavoro differenziato, volevo capire come era andato poi il resto della settimana. Allora Varela sta sicuramente trovando la condizione migliore, è chiaro che per essere al top ha bisogno di fare le partite, di giocare, la partita della domenica e cercheremo di metterlo dentro il prima possibile. Però lui sta crescendo molto, così come anche lo stesso Russo che le ha visto anche sorridente e questo mi fa piacere perché insomma il sorriso aiuta e se lo dico io figuriamoci. Però sta crescendo anche lui, sta riprendendo fiducia, sta riprendendo l'autostima, viene da un infortunio brutto, lungo e noioso, però insomma anche lui gradualmente continuerà la sua fase di crescita. Grazie mister. Grazie a voi. Grazie. 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 Grazie.